Quanto sia importante una riforma della giustizia è oggi ancora più che mai evidente. Diciamo che l'agenda politica ha accantonato il tema della giustizia che invece negli equilibri del Paese resta sostanzialmente uno dei punti centrali per avviare un'autenticazione di riforma della questione politico-istituzionale italiana. Quello che vorrei sottolineare conversando con l'amico Otello Rupacchini che ha avuto una lunga esperienza in magistratura e funzioni molto significative è se una riflessione che viene da fare su alcune impostazioni anche organizzative della giustizia stessa, penso alle super procure, corrispondono effettivamente ad un'azione di efficacia rispetto nel caso specifico alla lotta alla mafia o lasciano intatto invece una situazione di stallo e di blocco che di fatto accentuano la contropoduttività della giustizia con ripercussioni gravi per quanto riguarda il Paese e i cittadini. Aggiungo che tra l'altro nella riflessione sulla super procura dell'antimafia per fare esempio è bene ricordare come la stessa nasce su un'intuizione di Falcone e come lo stesso abbia avuto poi molti contrasti, come fu contrastato in questa sua interpretazione, ma al di là di questi aspetti la intuizione aveva una sua validità, infatti quella mafia fu battuta. Bene, è accaduto che di fronte al processo di mutazione della mafia stessa si avverte sul fronte della super procura antimafia una sorta di stallo e di, diciamo, inefficacia che potrebbe essere, diciamo, meritevole di una valutazione che sia un po' meno politicistica e anche più efficacemente legata proprio al modello organizzativo della giustizia e della sua capacità di essere puntuale nel intervento sugli avvenimenti. Grazie Otello Lupachini, ti saluto e voglio a te fornire la palla perché tu possa dare dal tuo punto di vista, con la tua lunga esperienza, una impostazione introduttiva che ci consenta di ragionare su questo aspetto che ho descritto in introduzione. La riforma della giustizia si rende necessaria attese delle deviazioni da quello che è il modello all'interno dello Stato liberale o, per meglio dire, dello Stato di diritto della funzione giurisdizionale. Ogni deviazione da quello che è il modello ovviamente implica e presuppone al tempo stesso la necessità di una organizzazione che sia in condizioni di poter realizzare quelle che sono le funzioni che vengono assegnate alla giurisdizione stessa. Ora, volendo parlare dell'organizzazione del Pubblico Ministero, specialmente in rapporto alla Procura Nazionale Antimafia e alle Procure Distrettuali Antimafia, occorre fare una premessa intanto di ordine generale sul momento in cui questi organi sono stati concepiti, sono stati realizzati normativamente e hanno iniziato ad operare. Dopodiché bisognerà passare a vedere se effettivamente questa situazione, quale si è avvenuta determinando nel tempo, sia ancora funzionale a quelle che erano le esigenze per cui gli istituti vennero concepiti. Allora, in idea generale dobbiamo dire che gli organi antimafia, la Procura Nazionale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia come organizzazione della Polizia Giudiziaria funzionale alle esigenze della Procura Nazionale e le direzioni, le procure distrettuali antimafia, vennero concepite in quello che io ho sempre definito un periodo bellico. Teniamo conto che si arriva alla realizzazione della Procura Antimafia dopo le vicende della guerra di mafia del 1978-82 e, per la precisione, dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, che erano state precedute da una serie di omicidi eccellenti, serie che si era aperta con l'omicidio Lima e anzi in precedenza con gli omicidi di Cesare Terranova, con l'omicidio di Pio Latorre, successivamente con quello di Gaetano Costa e finalmente con l'omicidio dalla Chiesa. In questa situazione, come è ovvio, gli istituti che si concepirono allora, cioè la legislazione del 1982, la cosiddetta Rognoni la Torre, e i successivi interventi del 1992 furono determinati dal realizzarsi di una emergenza. Tra questi due momenti c'era stato il maxiprocesso di Palermo e l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, che aveva sostanzialmente influenzato il modo di pensare e di rapportarsi rispetto alle indagini di mafia, perché non mi piace parlare di lotta, e al contrasto sul piano giudiziario del relativo fenomeno. Ovviamente quello che successe dopo le stragi del 1992-93 e l'emergere di una nuova faccia della criminalità mafiosa evidentemente hanno comportato delle conseguenze sul piano organizzativo, sul modo di concepire gli istituti e quindi sull'attuale modo di rappresentarsi, di funzionare e di essere funzionale a determinate esigenze, che non sono più quelle del periodo bellico, ma sono esigenze maggiormente legate ai fenomeni di globalizzazione che caratterizzano il momento attuale. Non solo. Il codice di procedura penale del 1989, nella sua concezione originaria, perché poi dobbiamo tener conto che anche il codice ha subito tutta una serie di modificazioni legate a particolari esigenze e a particolari esigenze emergenziali successive alla sua entrata in vigore doveva scindere e risolvere il problema dei rapporti tra la prevenzione e la repressione, lasciando in funzione giurisdizionale il compito non già di prevenire sul piano degli effetti il fenomeno ufficiale, di fenomeni mafiosi a seconda che consideriamo questo nella sua unicità o rapportato alle singole componenti di questo firmamento che è la mafia, dovesse essere funzionale alla prevenzione degli effetti negativi del proliferare del fenomeno, una volta che si fossero realizzati, perché questo è il compito della giurisdizione, intervenire quando un reato è stato commesso per accertare l'esistenza, la sussistenza del reato e per accertare gli autori di quel reato, per poter quindi predicare il valore di questo accertamento sotto il profilo dell'applicazione della sanzione, oppure se continui a provare sulla magistratura, quindi sull'attività giurisdizionale, il compito di prevenire determinati fenomeni, cioè che il reato non si commetta. Ovviamente in questo melange, in questa compenetrazione tra l'aspetto preventivo e l'aspetto repressivo del fenomeno, evidentemente vengono ad essere evidenti le distorsioni che può avere da una parte la funzione giurisdizionale e dall'altra addirittura la prevalenza all'interno dell'ordine giudiziario della funzione del pubblico ministero e della funzione del giudice, evidentemente creando sotto questo profilo delle distorsioni rispetto alla funzione di terzietà e di imparzialità dell'attività giudiziaria che dovrebbe esplicarsi per rimettere a posto le cose e non già per prevenire il disordine che c'è nel mondo. Volevo chiederti, lo Stato attuale ci documenta che vi è già citato il fenomeno della controproduttività, e tu hai con molta puntualità messo in evidenza quanto quella legislazione che produsse la superprocura aveva un'efficacia rispetto a una certa fase storica e fu intuita e ha ottenuto risultati, e questo è un dato di fatto certo, che non può non essere sottolineato, ma siccome i processi democratici hanno una dinamica in divenire e il collegamento che fai con grande puntualità sono i fenomeni di globalizzazione, il nuovo modello di mafia che si è venuto a produrre, si ha la sensazione che ci sia una rupture tra i soggetti idoni, oltre al processo di richiarimento sulla funzione di prevenzione, la funzione di repressione, al processo di crescita, di tentazioni, che possono in qualche misura svilupparsi sottraendosi alla efficacia della produttività. Io volevo chiederti, ma si può affermare senza essere smentiti che la mancata capacità di evoluzione del processo normativo ha in qualche misura prodotto anche un rallentamento della efficacia, al di là degli equivoci già espressi, e il riflesso è chiaramente disastroso da un punto di vista economico, con chiaramente la reiterazione delle condizioni con cui i rapporti economici tra nord e sud, delle dinamiche che ci sono venute a sviluppare, vengono in qualche misura non solo rallentate, ma restano estranee con conseguenze anche gravi per la evocazione della tanto citata crescita, che non si capisce dove dovrebbe poi prodursi, visto che l'impianto complessivo sembra tutto destinato a produrre anticrescita, più che crescita, e più che mai in quelle aree dove questa crescita sarebbe un ingrediente fondamentale all'uscita dalla parabola di ritardo in cui si vengono a trovare. Ecco, il concetto di contropoditività, da un punto di vista economico, è un riflesso legittimo o ti sembra una forzatura? Una volta chiarito il percorso storico che con molta puntualità hai descritto. Sì, ma al di là del percorso storico, cioè rispondere a questo tipo di sollecitazione, implica ancora una volta tornare alle premesse. L'intuizione fondamentale di Falcone, che ovviamente non nasceva in un vuoto pneumatico, ma nasceva dalla constatazione di dati di fatto e delle caratteristiche di presentarsi del fenomeno criminale mafia, era che sostanzialmente le ipotesi di criminalità mafiosa concretizzate in fattispecie penali dotate della necessaria tassatività e previste dalla legge, ovviamente non era circoscritta agli ambiti ristretti quali potevano essere quelli di un circondario o di un distretto, ma trascendevano il circondario e il distretto, coinvolgevano l'intero territorio nazionale e avevano propaggine operative anche all'estero. Il che determinava naturalmente l'esigenza di affrontare il fenomeno criminale con la stessa ampiezza di operatività. Se le mafie operano a livello nazionale e internazionale, bisogna disporre gli strumenti di contrasto anche sul piano giudiziario che vadano al di là di quelli che possono essere i confini di un circondario di tribunale, di un distretto di corte d'appello, di una giurisdizione nazionale per involgere anche i rapporti che le mafie sviluppano con l'estero. Ovviamente situazione che diventa importantissima in un momento di globalizzazione. Non a caso l'operatività della Procura nazionale antimafia e delle sue propaggini, cioè le direzioni distrettuali, opera anche nell'ambito del terrorismo e la si è fatta, la si è allargata anche alla corruzione. L'ampliamento dell'attività della Procura nazionale antimafia alla corruzione anziché alla mafia e al terrorismo soltanto comporta un ulteriore motivo di riflessione. Ma dicevo, questa era l'intuizione originaria, ma doveva restare nell'ambito della repressione dei reati? Perché altra è l'attività politica di regolamentazione di un sistema per eliminare tutto quel che c'è di criminogeno all'interno del sistema stesso. Altra è l'attività di polizia per effettuare una prevenzione generale e particolare rispetto a certi fenomeni, altra infine è l'attività giudiziaria che deve invece mantenere il suo ambito in quello della repressione dei reati, quindi di fatti criminali già consumati e non in divenire. Per una tendenza, diciamo così, anche questa storica che risale al Codice Rocco, ma che era già stata preconizzata in qualche modo dai codici di procedura penale del 1913 e da quello precedente del 1860, il primo codice post-unitario, si è finito per attribuire nuovamente all'attività giudiziaria, specialmente e giurisdizionale, di conseguenza quella funzione di prevenzione che invece dovrebbe essere tipica della polizia, portando in qualche modo a snaturare il soggetto, l'agente giudiziario che sia il pubblico ministero o che sia il giudice per quanto concerne gli aspetti giurisdizionali. È evidente che in questo modo finiscono per confondersi l'attività politica che è data in sostanza agli organi esecutivi, al governo e al Parlamento e che deve regolare quella che possiamo chiamare politica criminale, intesa come un insieme di misure che non si fossilizzano esclusivamente nel penale, ma che investano i più vasti ambiti dei rapporti tra soggetti politici, soggetti sociali, impresa, sindacati e via via, scuola e compagnia, scuola, welfare e via dicendo, rispetto all'attività di prevenzione che è quella della polizia, ma che può essere attuata anche attraverso i servizi di sicurezza è quella che è l'attività giudiziaria, finendo per caricare il giudice o meglio il pubblico ministero di compiti e funzioni che non gli appartengono, almeno nell'ambito della tripartizione dei poteri. Il tutto aggravato dal fatto che normalmente né il pubblico ministero né il giudice al di là degli aspetti disciplinari e penali delle violazioni che possa commettere, non è soggetto a nessuna responsabilità politica che al tempo stesso legittimi un'azione politica dell'organo stesso. Quindi evidentemente tutto questo allargamento di funzioni finisce poi per operare anche sulla stessa produttività del sistema, perché se regoliamo i rapporti attraverso la mannaia dei processi penali, che al di là di quelli che possono essere i poteri più ampi che attribuiamo a questo o a quell'organo giudiziario, resta sempre ingessata nell'ambito di una funzione che invece è concepita per tutt'altro scopo e si finisce per appannare gli effetti dell'attività politica. In più, rischiamo di trasformare i pubblici ministeri in poliziotti nella misura in cui attribuiamo una funzione di prevenzione al diritto penale che diventa poi il vero oggetto della politica penale che tende magari a ridursi addirittura a politica penale dell'ordine pubblico, quindi a chiudersi ancora di più in se stessa in una sorta di autoreferenzialità. Se non teniamo conto di tutto questo, sarà ben difficile trovare il punto di equilibrio ed il punto di caduta di una riforma che appunto reistituisca lo Stato di diritto e la funzionalità dello stesso. In conclusione, come con argomenti molto convincenti emerge, così dalle tue affermazioni, l'assoluta esigenza di focalizzare nell'azione di riforma, semmai prenderà forma, questa necessità di rivisitare un po' anche allo Stato delle cose la visione della superprocura e delle superprocure in generale e della superprocura specificatamente con tutti i suoi processi di allargamento che tu hai opportunamente richiamato. Ma proprio in questo senso qui vorrei chiederti per concludere questo primo approccio ad una lettura a un contributo anche riformatore di cui abbiamo cercato di farci carico anche in occasione della battaglia referendaria che aveva tutt'altro che vocazione polemica con la magistratura era all'inverso una esigenza di entrare nel quadro degli equilibri di potere che era per anche responsabilità della politica tu stesso hai in qualche misura hai parlato di appannamento dell'attività politica in buona sostanza si può anche dire che la politica ha scelto di auto appannarsi o ha accettato di restare ai margini del processo formativo evolutivo anche del legislativo ma questi elementi che vengono richiamati credi siano centrali nell'agenda di una riforma della giustizia cioè partendo proprio dalla centralità di una esigenza di iniziativa di tu hai detto non voglio usare il termine di lotta alla mafia perché evidentemente anche sul piano semantico il problema è che la mafia interviene corruttivamente nei processi democratici del paese dunque diventa importante attrezzare soggettività le istituzioni e alla capacità di contrastare il soggetto deformatore e anche inquinante allora in questa chiave tu credi che nella definizione dell'agenda di un'azione di riforma ricordiamoci che l'azione intrapresa dal neoministro nordio è stata immediatamente contrastata al di là delle possibili claudicanti interpretazioni ma quello che mi sembra evidente è che questo immobilismo è uno dei presupposti per mantenere lo status quo e allora c'è una volontà di bloccare qualunque azione riformatrice e se questa azione riformatrice deve prendere forma a tuo avviso proprio per l'intreccio degli eventi che caratterizzano anche l'azione anche in contrasto ai processi regenerativi su questo fronte una rivisitazione dell'azione della superprocura e delle superprocure in generale ti sembra il punto di il tassello introduttivo determinante in un'azione riformatrice dicevo quando la funzione diciamo degli organi statuali in un'armonica composizione dei relativi interventi e delle relative competenze è quella di una politica criminale intesa appunto come approccio non circoscritto a singole fattispecie di reato o addirittura di ipotesi di ordine pubblico ma è appunto quella di scadere a politica penale dell'ordine pubblico evidentemente chi diventa centrale in questo processo è l'organo a cui la funzione viene in qualche misura termine brutto appaltata evidentemente si crea un centro di potere molto forte centro di potere molto forte ulteriormente rafforzato dalla rottura di un equilibrio tra chi esercita l'azione penale da un dato il pubblico ministero e chi invece deve presicare il valore di determinati fatti per poter stabilire se ci siano le condizioni per l'applicazione di una sanzione in questa situazione un intervento riformatore che voglia di avere un qualche respiro deve innanzitutto ridistribuire le competenze la politica ha le sue competenze per quel che concerne gli interventi sociali culturali economici produttivi eccetera la polizia ha la sua competenza per quello che concerne la prevenzione dei reati e quindi per gli aspetti lato senso d'ordine pubblico la magistratura ha la funzione di reprimere i reati ma i reati si commettono nella misura in cui in questa divisione del lavoro non abbiano funzionato l'istanza politica e l'istanza preventiva chiaramente se noi riduciamo tutto alla repressione sia l'accertamento dei fatti ma anche l'agenda per quello che riguarda gli interventi di tipo politico generale e particolare preventivo evidentemente una riforma significa togliere dei poteri più o meno termine anche questo improprio ma che spiega bene la situazione abusivamente usurpati cioè non perché qualcuno sia voluto andare a prendere ma perché le cose sono evolute in modo tale che per la rinuncia di qualcuno a svolgere i propri compiti qualcun altro ha finito per svolgerli senza averne la legittimazione e la competenza da un punto di vista legale se non si entra nell'ordine di idee di riseparare il tutto la politica svolge l'attività politica la polizia quella preventiva la magistratura quella repressiva non possiamo continuare perché ognuno fa tutto e siccome il politico non farà il giudice e il poliziotto è bene che non faccia il giudice o distribuiamo di nuovo le competenze secondo quella che è l'assetto dello Stato di diritto oppure non si andrà da nessuna parte non è più problema di un'agenda riformatrice del processo o meno è un'agenda riformatrice di tutto le scelte di welfare non possiamo delegarle alla magistratura magari attraverso l'applicazione della misura di prevenzione che tende ad impedire che avvengano situazioni che danneggiano l'economia e poi finiscono per danneggiarla ancora di più perché il sistema attraverso il quale avviene ad esempio l'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati non ne rispecchia quella che è l'esigenza di una conservazione e di uno sviluppo dell'economia che va ad essere in qualche modo toccata da chi non ha quei poteri necessari per poter intervenire il giudice non può fare le leggi il giudice applica la legge certo se chi deve fare la legge praticamente si sgrava del suo compito delegandolo di fatto ad altri non è che risolve un problema crea ulteriori complicazioni ai problemi già esistenti bene certo andare poi a toccare l'assetto che si è venuto a determinare significa togliere a tizio o a caio poteri che ha finito per esercitare magari del tutto legittimamente per l'amor di Dio però in effetti ormai li esercita di qui quelli che vengono definiti scontri corporativi che non sono scontri corporativi sono scontri per mantenere una situazione di potere che magari si è venuta a creare semplicemente perché non sono stati rispettati i criteri di legittimazione e di distribuzione dei poteri nello stato di diritto bene siamo nel cuore della crisi politica siamo nel cuore dell'assenza deformativa nel tempo dello stato di diritto siamo nel diciamo meccanismo di corporativizzazione che andrebbe definito nel gioco dei pesi e contrapesi della Costituzione dentro una autorevolezza che sembra mancare vuoi per vocazione a trattenere il potere da parte di taluni vuoi per assenza di qualità progettuale in particolare della politica a ridisegnare una via d'uscita alla crisi politica stessa attraverso un'autentica azione riformatrice evidentemente nella descrizione fatta grazie a te Rotello abbiamo definito alcuni elementi di fondo da cui partire e evidentemente non rinunciamo a proseguire la battaglia per una giustizia giusta ritenendo quanto questa sia un punto di passaggio un caposaldo assoluto della democrazia dello stato di diritto che oggi sembrano vacillare nel nostro paese e quindi ringraziamo ancora una volta Otello Lupacchini ex magistrato gius filosofo con il quale molto spesso abbiamo l'opportunità di approfondire segmenti determinanti della questione giustizia che è parte integrante della questione politica e della crisi che l'accompagna grazie a te grazie a voi grazie a voi grazie a voi